Il gossip di Cancelletto Uomini e Donne ruota in queste ore su personaggi del trono classico dell'anno passato dopo le continue critiche che le vengono rivolte su suoi profili social, Soleil Sorghe torna a parlare della sua relazione ormai finita con Luca Onestini dichiarando di non averlo mai tradito e di essersi avvicinata a quello che è il suo compagno in questo, Marco Cartasegna, solo dopo aver chiuso la storia con Luca. Soleil risponde alle accuse mettendo in chiaro che se c'è una persona falsa quella sicuramente non è lei. Da quando è iniziata la seconda edizione del GF VIP sono stati tanti pettegolezzi che hanno investito la storia di Luca e Soleil, almeno fin quando non è scoppiata la bomba che ha coinvolto Cecilia Rodriguez, il suo ormai ex Francesco Monte e Ignazio Moser, video virgola punto dopo tanto silenzio però la bionda ex corteggiatrice, stanca di essere continuamente criticata dal popolo del web, lancia parole nette per chiarire la situazione una volta per tutte.Uomini e donne news, Soleil ho seguito il cuore, non devo chiedere scusa l'ex corteggiatrice fu la ragazza che Luca Onestini scelse tra le tante che si proposero durante il suo trono, ma poi lo ha lasciato per iniziare una storia con un altro corteggiatore di uomini e donne, Marco Cartasegna.La ragazza però dichiara che mai ha ingannato il suo ex e di essersi avvicinata al suo attuale ragazzo solo so può aver lasciato Luca Onestini, respinge quindi con decisione le accuse di tradimento fatte dai molt fan dell'ex tronista e del programma di Maria De Filippi.Soleil infatti dice che quando si è cominciato a vociare di una loro storia, lei era ancora fidanzata con Luca e che tra lei e Marco non era ancora successo niente, la loro era una semplice amicizia fatta di affinità e una forte intesa, ma pur sempre un'amicizia l'ex corteggiatrice ci tiene a precisare che fino a che sono stati insieme, non ha mai presa la leggera la loro storia e, rivolgendosi al pubblico, incalza quindi fatela finita con questa storia. Perché la persona falsa non sono di certo io dicendosi stufa di essere accusata appunto di falsità.Ormai stanca delle continue accuse soleil continua chiedendo perché dovrebbe chiedere scusa per aver deciso di concludere una storia d'amore e aver deciso di conseguenza di seguire i suoi sentimenti, per poi lanciare una sorta di accusa generalizzata le mie dichiarazioni sono state forse anche troppo pacifiche rispetto allo schifo ho visto fare da più persone tiratesi in mezzo alla mia storia senza alcun ruolo se non televisivo. Con questa ultima frase, Soleil si sta chiaramente riferendo a interventi televisivi fatti dal fratello del suo ex fidanzato, Gianmarco Onestini, e a quello della ex del suo attuale compagno, Federica Beninca, che ricordiamo essere stati più volte ospiti da Barbara D'Urso e che l'hanno criticata molto duramente. L'unico estraneo al puttiferio mediatico che si è scagliato contro l'ormai ex Soleil e ha la loro storia e proprio uno dei diretti interessati, Luca Onestini, che come tutti ben sanno è uno dei finalisti del grande fratello VIP, video, come reagirà una volta fuori dalla casa. Cancelletto Soleil sorge Cancelletto Uomini e Donne Neve Cristian Citton Luca e il baso unido me ne comungi guerra.